Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Garance Auti, la nuova fiamma di Fedez, ha incontrato Valentina Ferragni durante una sfilata a Forte dei Marmi. Il primo incontro tra la modella e l'ex cognata del rapper è diventato immediatamente virale sui social. Durante una delle sfilate più attese della stagione Marciano by Guess, a Forte dei Marmi, sedute in prima fila, c'erano Valentina Ferragni e Veronica Ferraro, rispettivamente sorella e migliore amica di Chiara Ferragni. Tutto procedeva normalmente fino a quando è apparsa in passerella Garance Auti, la nuova fidanzata di Fedez. Appena Valentina e Veronica hanno visto Garance, hanno sbarrato gli occhi. La nuova fidanzata di Fedez, al contrario, è apparsa completamente a suo agio, continuando a sfilare con sguardo fiero. Le Ferragni e l'amica hanno iniziato a parlottare sottovoce, mentre il video del momento è diventato virale sui social. Il primo incontro tra Garance e Valentina Ferragni ha scatenato numerosi commenti esilaranti. Alcuni hanno paragonato le due donne alle sorellastre di Cenerentola, altri le hanno definite come Anastasia e Genoveffa, guardanti con occhi di invidia. Inoltre c'è chi le ha paragonate a due mercatare alla sagra dei pezzettini di Cavallo di Santa Maria di Leuca. L'episodio è stato condiviso su Instagram, generando ulteriori reazioni.